Salve a tutti ragazzi sono sempre io Mr.Tike e ben ritrovati qui siamo alla diciamo piccola prima presentazione della Tyquat modpack diciamo che avevo annunciato tanto Totten lì che gira che avevo annunciato negli scorsi video e siamo in un server nel server dove praticamente stiamo cominciando a girare e costruire le varie strutture per il trailer ufficiale scusate la voce un po' mi manca questa piccola scena dove stiamo girando adesso ci è stata offerta da Totten 98 anzi scusate la maleducazione questi cosi non sono tre barboni qualunque sono tre barboni ma sono tre miei beta tester partendo da sinistra diciamo dell'inquadratura abbiamo Glados con la scheda scienziato eccolo lì Totten 98 eccolo lì e Vito il mito ok giusto che sei sparito rimani là che almeno ok ah no sei tornato vabbè dai perché abbiamo questa schermata qua dietro questa schermata qua dietro innanzitutto è stata fatta con la Computercraft come ripeto era Totten 98 che adesso ha un dispenser in faccia e praticamente è collegato direttamente al canale eccolo lì è collegato direttamente al mio canale di Youtube e dice gli iscritti che ci sono nel canale e visto che abbiamo deciso diciamo di come vi ho già anticipato di rendere pubblico il trailer e di rendere pubblico anche il modpack a raggiungimento dei 250 iscritti e come vedete là dietro che sono 238 quindi ci siamo quasi e niente ci teneva a farvi vedere un po' un piccolo programmino e niente allora cosa cosa dire cosa dire allora adesso vi faccio vedere un piccolo scorcio ma proprio piccolo 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 un piccolo pezzo di scena che verrà nel trailer e non vi spiego cosa sono quei due edifici ecco lì ganciato il missile GLaDOS e niente praticamente ragazzi per registrare praticamente farò un sistema tutto nuovo perché questo server adesso si è stato adattato per fare il trailer ma come non appena dai toglieti davanti per favore Vitto intanto lui è col mistero della Galacticraft perché c'è anche la Galacticraft come mod e registreremo su un server questo server qua adesso poi verrà toltere ovviamente il mondo del trailer ne verrà fatto un altro registreremo sul server e tanto GLaDOS è con una foca a testa registreremo sul server perché? perché così a me lo potremo invitare anche degli ospiti voi iscritti che ci state continuando a seguire che praticamente ooooh fate fare un discorso serio e ci continuate a seguire e sostenere quindi potete venire anche voi ovviamente vi estraremo a caso o diciamo vedremo un pochettino comunque non vi preoccupate che ci togli quella granata e togli quell'antimatter explosive Cavalca la foca Cavalca la foca? bello togli togli l'esplosivo ok visto che mi ha fatto già abbastanza danni quindi come dicevo potrete venire anche voi nel video scusate se mi sto ripetendo ma mi stanno facendo perdere il filo del discorso e anche la mia testa da scivolo e niente benissimo quindi quello che dovevo dirvi per quanto riguarda le nuove registrazioni è questo ah una novità importante ragazzi è che visto che da un po' di tempo che avevamo gli accessi live dai finiscila vitto finiscila e gli accessi per fare i live dai con la testa di wireless redstone si perché c'è anche la wireless redstone le cbm l'atomic science vi dico anche una mod c'è anche la play of energy stick la galacticraft ce ne sono tantissime mod ragazzi e una mod che non poteva mancare la airblor ragazzi la airblor mod c'è anche allora dai basta che mi fate un po' di spazio per farmi riprendere perché sennò faccio la faccio proprio dai ok uh sono messo il comodo di no verde in testa ti sta bene tienilo ecco dai ragazzi fatemi finire questa parte qui perché deve venire una cosa un pochettino breve anzi abbastanza breve dai vitto togliti e come vi volevo dire faremo anche dei live faremo anche dei live secondo come potremo iniziare anche stasera o domani e anche sulla progettazione di questa mappa per il trailer faremo dei live ovviamente se tutto va bene ragazzi io sto proprio sto sto tutto quanto proponendo ma è tutto quanto a progetto e ovviamente tutto questo andrà avanti se sostenuto da voi se sostenuto da voi perché tutto questo progetto è solo e soltanto per voi per farvi divertire bene ragazzi cosa aggiungere dobbiamo aggiungere qualcos'altro o dobbiamo dire qualcosa devo fare dei starnuti devi fare dei starnuti non ho capito si devo starnuti guarda glado si è messo l'apparecchio rimettitelo devo starnutare rimettitelo guarda sei messo l'apparecchio è un lancio al platform bene dai il nome è Alessio non faccio i cognomi ma ti ho detto di salutare ultramitico che chissà che voi notare ah si è vero ultramitico ragazzi che adesso è con noi su team speak però è lì nascosto intanto lui lancia il fuoco d'artificio ah ecco un'altra novità ragazzi è che adesso mentre registriamo e mentre magari facciamo i live potete venire anche su team speak perché il canale di registrazione è aperto a tutti ovviamente la parola ovviamente non è concessa a tutti quanti però si può anche richiedere se volete venire con noi siamo su ts.svarnak.net la sera ormai ci stiamo un po' polando ci stanno divertendo e stiamo diventando una grande famiglia più di quella che siamo su youtube e niente basta che dire ragazzi se venite qua facciamo il saluto guarda che mi fa morire totter guarda guarda glados si è messo l'apparecchio avanzato si è messo allora ragazzi dai niente spero che diciamo di raggiungere prima il prima possibile i 250 iscritti così me lo rilasciamo subito in versione ufficiale la dai fatemi finire il mod pack intanto che è già in versione beta sul technique pack comunque sul technique lounge e niente ragazzi dai da cominciamo a fare un po' di saluti ragazzi dai allora da glados da glados vito il mito e eccolo e totte 98 ecco lì non ci sto ragazzi scusatemi ma non ci sto capendo più niente comunque da noi tutto è tutto ragazzi e che non so che dirvi mi raccomando ragazzi mettetevi piace se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale se vi è piaciuto e su bravo condividete e se volete venire siamo sia su google plus che su twitter su chiocciola di mr tyke ragazzi bene dopo tutto questo spam assurdo non ci sto capendo più niente chi piazza fuochi chi lancia missile chi mi rompe le palle come vitto il mito ragazzi dai adesso è davvero tutto e ciao a tutti ciao